Grazie. Onorevole Comi, prego un minuto. Grazie Presidente. Commissario, io penso che l'Erasmus Plus rappresenti il migliore investimento che l'Europa abbia fatto sui giovani. Oggi, ieri e confidiamo ancora di più domani. Questi trent'anni di investimenti in capitale umano hanno donato all'Europa una generazione molto più aperta come mentalità, più europea, maggiormente consapevole anche delle proprie forze e dei propri limiti ed è stato un punto chiave anche dei ragazzi che volevano rimanere dall'Inghilterra all'interno dell'Unione Europea, proprio per il tema Erasmus. Io penso che ci siano anche altri programmi molto importanti che devono essere sempre di più finanziati, tra i quali abbiamo l'Erasmus per giovani imprenditori. Pochi dei giovani conoscono questa opportunità, altri abbiamo il Servizio Volontario Europeo, ma soprattutto l'iniziativa Garanzia Giovani. Ecco, in questo io penso che sia necessario ridurre il livello che abbiamo di disoccupazione dando ai giovani non solo l'opportunità di studiare all'estero, ma di avere le capacità economiche per poter aprire un'impresa e per poter essere veramente imprenditori di se stessi. Io penso che il futuro nostro sia nelle mani dei giovani e oggi siamo qui per creare il loro futuro e dare loro le possibilità che magari noi non abbiamo avuto oggi. Sì, onorevole Comi, onorevole Pospisil, prego, minute trenta.